Ciao a tutti, allora questo è un video molto rapido, potrei definirlo quasi di sponsorizzazione, ma in realtà non sponsorizzo nulla perché non ho ricevuto né denaro, né oggettistica, né nulla. Lo faccio perché mi va di farlo e perché voglio iniziare, per chi vuole aiutarmi, adesso vi spiegherò i motivi, una raccolta fondi, la ditta e mi difendo creano delle pistole al peperoncino, potenti ma non letali, legali, che rispettano perfettamente tutti i parametri stabiliti dal decreto su questi strumenti. Io ero in contatto con una persona del gruppo, diciamo, e dovrei telefonare anche per prendere accordi, diciamo così. Qual è il problema? Loro si sono dimostrati disponibilissimi anche a farmi recensire i loro prodotti, però, giustamente, loro sono lì per vendere, non per regalare. Lo fanno con chi è già cliente, e cioè danno, diciamo, in omaggio, tra virgolette, uno dei loro prodotti se già tu ne acquisti un altro. Io attualmente, così come sempre del resto, sono in bolletta, in rosso, e quindi non ho avuto questa opportunità. Però volevo intanto mostrarvele. Chi mi vuole aiutare, quindi, può utilizzare il collegamento che io metto sempre per sostenere il canale, che può farlo anche per altro, se uno mi dice no, io per la pistola, per il peperoncino, non me ne frega nulla, prendi qualcos'altro che interessa a me, voglio sapere la tua opinione, la voglio vedere, però me lo deve dire a quel punto. Ad esempio, qualcosa come è andato per, è successo quest'estate, per la canoa gonfiabile. E c'erano tutta una serie di accessori, e le cose si sono concentrate lì. Allora, questi... Io adesso farò una cosa molto rapida, perché, giustamente, non ce l'ho in mano, quindi non posso dire esattamente come funziona. Lo vedo qui, e vedo le specifiche che vengono date in descrizione. Ha una forma similpistola, vedo qui che c'è una specie di sicura, vedete qui c'è il grilletto, in maniera tale che non può infilare il dito, non subito almeno, e questa forse è una cosa che mi convince poco, però, per evitare, diciamo, degli spari superflui, o comunque non voluti, qualcosa deve pur esserci. Io, personalmente, avrei preferito qualcosa di più simile, magari, ad una sicura di un'arma vera, e cioè, un bottoncino, un blocco fisico, se vogliamo, magari anche ambidestro, che tu, con un rapido gesto, lo innesti o lo disinnesti, e il pulsante qui, il grilletto, semplicemente, quando è innestato, non può essere premuto. Questa è la G3, che è uno dei modelli di questo genere qui, mi sembra che sia il modello più costoso. Ha questa impugnatura a pistola, diciamo, molto piccola, abbastanza sottile. Poi abbiamo questa, che è lo stesso, ha un'impugnatura a pistola, anche se mi sembra forse un pochino più piccola, sembra meno tattica, in un certo senso, ma per il resto mi sembra praticamente identica. 11x8 cm, questa 10x7, questa è un po' più piccola, e queste cose, più sono piccole, meglio è, sotto un certo punto di vista. Anche questa ha lo stesso tipo di grilletto, con questa sicura. Costa 10€ di meno. Ecco, mirino e calcio sagomato. Questa perché costa di più? Perché ci si può mettere opzionale il mirino laser. Non lo so, sinceramente, il mirino laser, forse dove lo mettono? Bisogna vedere dove esce, adesso, non avendola in mano, non posso dire, perché sembrerebbe che ha due pistoncini, uno di sopra e uno di sotto, ma non vorrei dire stupidaggini. Dove mettano il mirino laser? Qui però abbiamo le tacche di mira con il mirino. è carino, anche questo, bisogna vedere poi la funzionalità, in realtà, anche qui l'abbiamo. Dobbiamo poi vedere le funzionalità, perché comunque un colpo così a getto non è la stessa cosa, ovviamente, che un colpo d'arma da fuoco, è chiaro, anche perché la gittata è molto inferiore. Questa è la pistola al peperoncino più richiesta, la H2, un mirino in impugnatura comoda per una presa immediata con due colpi pronti all'uso. Quindi anche qui abbiamo due colpi, sembra semitrasparente, e questa 49 euro, 10 euro di meno. Secondo me è molto utile che ci sia questo tipo di impugnatura qui, che invece non abbiamo nell'H1, che è il sistema più semplice. Praticamente identiche, se ho ben capito, non ci sono differenze sostanziali. Anche qui abbiamo il pulsantino, la sicura, i due getti. Se ho ben capito, se ho capito correttamente, un getto è sopra, un getto è sotto, o se vogliamo addirittura in parallelo, perché potreste tenerla... Questa ha un verso, diciamo così. Ha un verso, questo è l'alto, questo è il basso, ma questa, ad esempio, potreste tenerla anche in orizzontale. Non ha un verso. 39 euro, è ricaricabile? Non lo so. Non credo, sinceramente, perché sennò ce l'avrebbero scritto. Però, se lo fosse, sarebbe una cosa buona e giusta, perché a questi prezzi, 59 euro per un qualcosa che non è ricaricabile. Poi considerate un'altra cosa. Ci si augura sempre di che non vengano mai utilizzate queste, che non ci si trovi nella condizione di doverle usare. Ma anche se non le utilizzi, scade il composto, il peperoncino all'interno. Vi danno una data di scadenza. Una volta finita la scadenza, è vero che, comunque vi assicuro che ho fatto la prova con uno spray che era scaduto, e ancora funzionava perfettamente. Però, dopo un po', comunque si addecade il principio attivo. L'oleum capsicum. Non è più sicuro andare in giro con una roba scaduta. E spendere 39 euro, 49 euro, 59 euro con una roba che, dopo due anni, poi magari, di solito dura un paio d'anni, io lo metterei ricaricabile. O se no, c'è questa alternativa qui, che sono molto più efficaci, sono ricaricabili, ma costano anche di più, parecchio di più. Non lo dice, però, qui, ricaricabile, ma questo lo è di sicuro. Assomiglia molto alla Walter P22. Ce l'ho avuta, quindi so di cosa parlo. Questa in più riesce a mandare il getto ad una velocità che qui ci si sogna. Qui, non lo so se sia proprio a getto, sì, getto liquido, perlomeno non è a spray. Il getto è molto meglio. Lo spray, è vero che allarga molto, è più facile colpire un bersaglio con lo spray, però il getto è molto più efficace. E più è rapido, più la cosa si fa interessante. Però, ripeto, se io sbagliassi il discorso che invece questi sono ricaricabili, allora ritiro quello che ho detto ed è ugualmente valido. Non lo so, appunto. Non avendolo in mano, non posso dire qualcosa per certo. Vedo, dico quello che vedo. Questa è forse più consigliabile per un operatore di sicurezza, perché già c'è gente che purtroppo si è ritrovata con un processo con quelle, posso usare una parola, vabbè, non la uso dai, con quegli spray che costano meno di 10 euro, li trovi ovunque, anche in farmacia, che sono dei tubini ed è proprio lo spray più classico, il divano. Ecco, gente che si è ritrovata sotto processo nonostante con tanto di etichetta che riportava tutte le caratteristiche addirittura sotto i limiti legali. Ad esempio, il limite legale è di 20 millilitri, tutti gli spray lo hanno da 15, non di più, per essere sicuri. eppure processo con tutto quello che ne consegue. Ecco, andare in giro con una roba del genere è utile, è bello, ti rende sicuramente le cose più semplici in caso di aggressione o una roba del genere. Vedete, questa credo che sia la sicura, questa qui sotto, non lo so per certo, ma non vedo cos'altro possa essere. Questo affare di metallo probabilmente serve per aprirlo. Però, se ti be... Questo è dove la nascondi? In borsetta. Ma se sei un uomo, in tasca, magari si vede l'assago, ma... Comunque, sono scelte personali. In punta di diritto avete ragione, però sappiamo che purtroppo la pratica per questa dannata mancanza di cultura armigera che vige, non solo in Italia, ma in gran parte del mondo, tutti hanno paura di tutto e le forze dell'ordine agiscono per non saperne leggere né scrivere, come si dice, abbondano nella loro repressione. E questo invece è proprio il top del top. Quattro cartucce, eccole qui, vedete come si apre, la stessa apertura, ce l'ha anche questa, anche se qui non si vede. Ah, qui vediamo 249 euro, che è un prezzo elevato, una pistola usata costa questa cifra qui. 429 euro, anche qui una pistola usata, ma trovi anche il nuovo, una spesa del genere. Però questa è la porta in giro. L'ultima novità della casa svizzera PX-ON, la JPX4, quattro colpi pronti all'uso, quindi questi perfettamente ricaricabili, anche qui velocità oltre 351 km orari, questa è A351, questa addirittura dovrebbe essere più veloce. Così dall'estetica mi sembra che sia, oltre ad essere ergonomica, proprio come una vera e propria pistola, anche più pronunciata rispetto a questa che è più curta. Questa c'ha, come si chiama qui, adesso non mi viene, un'impugnatura più lunga, ma la vedo di gomma, oltre a queste tacchette per aumentare la presa, l'attrito, quella che qualcuno chiama grip, ma è molto bello il fatto che sia tutta di gomma, quindi in mano c'è una piacevole sensazione, rimane salda, se cade probabilmente non si fa nulla, questa invece è di plastica, quindi bisogna starci un po' più attento. poi vado ad occhio, perché non lo so, magari è solo nera, ma in realtà è plastica, non ce l'ho sotto mano, questo è il problema. E qui vedo anche una slitta piccattini, dove mettere qualche accessorio, può essere il laser, piuttosto che una luce. forse anche questa è una slitta piccattini, no, la slitta piccattini ce l'ha qui, eccola qui. Questa è una spesa più importante, comporta, anche qui, la consiglio per gli addetti alla sicurezza, perché anche una guardia giurata che fa il suo percorso, magari si trova davanti più di un ladruncolo, che però non scappano, ma gli vanno incontro con le spranghe, sì, ha la pistola, può sparargli, ma poi si ritrova invischiato in un processo che non finisce più, che gli rovina la vita e il lavoro. Con questa invece glielo spruzzi in faccia, gli dai un paio di calci nel culo e li mandi via. Ecco, adesso la chiudo qui molto rapidamente, e io vorrei poter fare una recensione congrua con l'oggetto in mano, però prima devo diventare cliente, quindi però mi serve l'aiuto degli iscritti, se vorranno aiutarmi, ben venga. C'è il collegamento di Streamlab che vi rimanda al conto di PayPal. Se si raggiunge almeno la cifra minima che credo che sia di 39 euro, poi non lo so se basterà quella, adesso bisogna che ci parlo, ma queste non me le mandano, sono sicuro, questa 2,49, men che meno questa. Però, se almeno facendone una di questa me ne mandano un'altra, insomma, almeno gliene recensisco un paio. Niente, finito qui, vediamo un po' come va, so che non sarà una cosa rapida, ammesso che ci si riesca, e questa volta l'aiuto però deve essere concreto, deve essere totale, perché il discorso della canoa, le spese sono state ingentissime, per me perlomeno, la maggior parte dei soldi chiaramente l'ho dovuto tirar fuori di tasca mia. Qui il discorso è diverso, se qualcuno è interessato bisogna che alla cifra ci si arriva, io ovviamente ci tengo che ogni volta che arriva qualcosa lo rendo pubblico. L'ultima cifra sono stati quei 5 euro oramai di due mesi e passa fa arrivati da Giampiero, quindi non ci sono state altre donazioni di nessun tipo, non so se si riuscirà a raggiungere anche la cifra minima di 39 euro, però vediamo, io spero di poter prendere magari il GAT3 da 59 così loro mi mandano magari il GAT2. Adesso intanto iniziamo, tanto sarà un processo sicuramente lungo, poi si vedrà insomma, io bisognerà che li contatto e mi faccio dire da loro come sono le proposte, che cosa dovrei acquistare per farmi spedire che cosa e vediamo un po' vi terrò aggiornati in ogni caso. Grazie di tutto, per chi vorrà contribuire ovviamente i ringraziamenti saranno sempre personalizzati. Di nuovo ci vediamo alla prossima.